P-TECH è un general contractor, noi lavoriamo in edilizia, ci occupiamo di riqualificare gli edifici e lo facciamo con tre principali elementi che ci distinguono dagli altri, il fatto di essere un general contractor che ti dà un unico referente dall'inizio alla fine dell'opera, gestiamo le detrazioni fiscali ancora prima di iniziare l'intervento e poi finanziamo, o meglio, aiutiamo a finanziare il cliente che necessita di un supporto economico per l'esecuzione delle opere in modo che riesca a realizzare l'intervento anche qualora non avesse tutte le risorse finanziarie. Noi sponsorizziamo Atlantide ormai da credo dal 2015-16, avevo conosciuto il mister Zambonardi tramite alcuni giocatori che conoscevo all'epoca e quindi da lì era nata poi la nostra collaborazione che ormai dura quasi dieci anni. È sempre stato un piacere seguire la squadra, è capitato di venire a San Filippo a vedere le partite della squadra quando gioca in casa. L'aspetto che mi è piaciuto di più rispetto alla realtà Atlantide è proprio il fatto che sia una realtà del territorio, che investe sul territorio, ha un vivaio importante, fa crescere tanti ragazzi, ci sono tante famiglie che comunque crescono in un ambiente legato allo sport e quindi legato a valori positivi che sono un po' anche i valori che cerchiamo di portare avanti con la nostra azienda.